Buongiorno a tutti. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare del server e di come scrivere JavaScript nel server per erogare dei servizi, nel nostro caso dell'API REST, che fornissero informazioni in formato JSON, in formato testuale. Oggi, in questo video, ritorniamo per un momento a parlare di JavaScript nel browser e in particolare di come possiamo far sì che il nostro sito, la nostra applicazione web, JavaScript pura, come quella che abbiamo fatto due settimane fa, possa scambiare informazioni col server, col nostro server REST e quindi possa scambiare queste informazioni, recuperare le informazioni dal server per visualizzarle qui oppure chiedere al server di creare nuove risorse, creare nuove informazioni, creare nuove tuple nel database e così via. Per farlo, questa comunicazione è ovviamente una comunicazione HTTP e per farlo utilizziamo quelle che si chiamano le Fetch API di HTML5. Qual è il goal quindi di oggi? Il goal è quello di inviare richieste HTTP asincrone tra un browser, tra un client e un server. Allo stesso modo, non solo inviare richieste asincrone, ma anche caricare i dati in maniera asincrona, in modo che la nostra applicazione web, che ripeto, è quella che gira nel browser per ora, possa caricare questi dati e non essere bloccata. Allo stesso modo, anche come possiamo gestire richieste multiple, richieste parallele, come possiamo interrompere richieste e quali eventuali librerie alternative, magari un po' più evolute, magari un po' più personalizzate rispetto alle Fetch API di HTML5 sono disponibili. Partiamo quindi dalle richieste JavaScript asincrone. Ora, noi sappiamo che in un'architettura classica, come quella che abbiamo visto quando abbiamo parlato delle architetture web, il server fornisce la prima pagina HTML e questa pagina HTML ha dentro il JavaScript, ha dentro il CSS, ha dentro le immagini e quant'altro. L'utente, il visitatore del sito, il visitatore dell'applicazione interagisce con l'applicazione generando eventi, scrivendo nei campi, premendo dei bottoni col mouse e così via. E a seguito di questi input, a seguito di questi eventi, il codice JavaScript decide, ha bisogno a un certo punto di decidere, che nuove informazioni, c'è bisogno di nuove informazioni, sono necessarie. Per esempio nel caso del laboratorio, dell'applicazione che stiamo costruendo nel laboratorio, quando clicchiamo su uno dei filtri, voglio solo i task importanti, il JavaScript decide che nuove informazioni sono bisogno e quindi carica, aggiorna la nostra lista di task, facendo vedere solo quelle importanti. Attualmente noi stiamo facendo tutto all'interno del browser, vogliamo che queste informazioni non siano dentro il codice del browser, embeddati nel codice, ma siano fornite da un server che starà da qualche parte. Quindi questo codice JavaScript, per aggiornare la nostra ipotetica lista di task, ovviamente deciderà che c'è bisogno di nuove informazioni e chiederà queste informazioni a qualcuno e questo qualcuno è un server. E la modalità con cui queste informazioni sono richieste e queste informazioni sono fornite in risposta, abbiamo due opzioni possibili principalmente. La prima è che JavaScript faccia questa richiesta e carichi una nuova pagina, una nuova URL con una nuova pagina HTML, col suo codice JavaScript, col suo CSS e quant'altro. Questo caricamento di una nuova URL è, diciamo, non raccomandato, è l'approccio classico, totalmente classico, se ricordate nell'architettura, che abbiamo visto nell'architettura web, in cui ogni richiesta corrispondeva a una nuova pagina HTML con nuove informazioni. La seconda opzione, che è quella che andremo a vedere, è che il JavaScript richieda nuove informazioni dal server, riceva queste informazioni, interpreti i dati ricevuti e, manipolando il DOM, modifichi la pagina. Per esempio, immaginate, penso che possiate immaginare dove vogliamo arrivare, noi potremmo fare una chiamata al nostro server rest, fare una get al nostro server rest, il browser, l'applicazione web che gira nel browser in JavaScript, può fare una get al nostro server rest, recuperare, ricevere le informazioni di risposta come JSON, interpretare il JSON e aggiornare la tabella dei task nel nostro esercizio di laboratorio, manipolando direttamente il DOM, esattamente come adesso stiamo manipolando il DOM, ma invece di prendere le informazioni da un array, da una lista JavaScript scritta nel codice del browser, prendiamo queste informazioni da un server che le fornisce a tutti i client allo stesso modo. Ovviamente, come già stiamo facendo adesso, questa richiesta di nuovi dati, questa ricezione dei dati, questa interpretazione dei dati e questa modifica dei contenuti della pagina deve essere fatta in maniera asincrona. Quindi senza bloccare l'interfaccia utente, senza congelare il browser, l'applicazione web, in attesa che questa richiesta sia fatta, che il server decida di rispondere, che il server invie la risposta, che il browser interpreti il file JSON di risposta e che il browser, che il JavaScript, modifichi la pagina di conseguenza. La possibilità di caricare dati in maniera asincrona è possibile da tanto tempo, in realtà, circa dal 1998, ed è stato poi reso popolare qualche anno dopo. Attraverso, dal 1998 fino a qualche anno fa, quello che si usava era questo oggetto, XMLHttpRequest, che appunto permetteva di fare queste richieste asincrone per porzioni di pagine HTML, per appunto popolarle da JavaScript. Ovviamente, questo dovreste forse già saperlo in parte dal corso di reti, per ragioni di sicurezza, per caricare dati da HTTP, è per default possibile solo dal suo stesso server. Quindi il browser, le pagine web, le pagine HTML, le pagine JavaScript, del nostro client, che girerà nel browser di un utente, devono essere servite dallo stesso server che serve anche, che fornisce anche, l'API REST di default. Quindi ogni script JavaScript, per default, per come funziona HTTP, deve, può accedere normalmente alle risorse, per esempio caricare data, dati, forniti dallo stesso server che serve, che fornisce lo script JavaScript in questione. A giorno d'oggi è possibile anche caricare dati da altri server, per esempio avere un nostro server REST che viene consumato, le cui informazioni vengono consumate da un client JavaScript che gira nel browser ed è fornito da un altro server, un esempio, chiamiamole API REST di Google Maps attraverso JavaScript. Ovviamente JavaScript girerà sul nostro server, sarà fornito come applicazione web da un nostro server, mentre Google Maps e le sue API saranno fornite dai server di Google, che non è il nostro. Quindi questo scambio tra questi due server diversi, dal JavaScript del client della mia applicazione e i server di Google che magari mi espongono dell'API REST, non è di default possibile, ma è abilitato da questa cosa che si chiama cross-origin resource sharing, questa course che sta appunto per cross-origin resource sharing, che serve, che è un meccanismo HTTP di nuovo, per permettere il caricamento di la comunicazione tra client forniti da un server e quindi il nostro file JavaScript fornito dal nostro server e le informazioni fornite dal server di Google per Google Maps. Vedremo brevemente cosa vuol dire in questo set di slide. All'interno del corso e per i progetti che faremo, noi avremo un unico server che pubblica un'applicazione web e quindi non avremo questi problemi di cross-origin, ma è giusto sapere che esiste. Questo oggetto XML HTTP request era disponibile, come vi ho detto, da fine degli anni 90, 1990, su multi-browser, ma è stato standardizzato nel 2006. Questo oggetto è in un certo senso il precursore di queste Fetch API che andiamo a vedere, perché era abbastanza complesso da utilizzare per gli sviluppatori e non era totalmente consistente tra diversi browser e quindi di conseguenza è ancora supportato, in quanto è standard, dal 2006, ma non è più la modalità raccomandata, la modalità moderna per consumare dati asincroni. La modalità appunto moderna, attuale che vedremo è quella relativa appunto a queste Fetch API che è un API JavaScript HTML5 che usa le promise. Quindi io faccio una richiesta a un server, faccio una richiesta get a un server e restituisco immediatamente una promise e dentro questa promise, quando il nostro server risponderà, la promise verrà popolata con le informazioni del server. Le Fetch API, come API, è alla fine un metodo in JavaScript che fornisce una definizione generica di un oggetto richiesta e di un oggetto risposta. E all'interno di questi oggetti richiesta e risposta poi ci sono tutti i supporti per le varie richieste via rete, per esempio gli header, le intestazioni, l'accesso al body della risposta e così via. Le Fetch API sono tra l'altro ben supportate dai browser al giorno d'oggi perché fanno parte di HTML5 e in particolare sono supportati dal 2016-2017 con l'unica eccezione di Internet Explorer al momento. Quindi ormai è una tecnologia abbastanza consolidata. Come utilizziamo Fetch? Fetch, vi ho detto, è un metodo che si scrive così e ha un parametro obbligatorio e alcuni parametri facoltativi. Il parametro obbligatorio, che è il primo parametro di questa Fetch, è la URL del server, della risorsa HTTP a cui accedere. E questa Fetch è disponibile in quasi tutti i contesti JavaScript, per esempio dall'oggetto Windows, quindi è possibile scrivere direttamente Fetch, aperto e chiuso a parentesi, e come vi dicevo ritorna una promise che sarà ovviamente risolta solo quando l'operazione di caricamento da un server finirà. Quindi quando il server risponderà alla chiamata HTTP in maniera auspicabilmente consona e completa. La promise risolverà in caso positivo in un oggetto di tipo risposta che avrà appunto tutte le proprietà, tutti i campi per della risposta HTTP che riceviamo a partire dalle intestazioni fino al body e quant'altro e questa promise viene rifiutata solo ed esclusivamente in caso di errori di rete. Quindi per esempio che il server non è raggiungibile. In tutti gli altri casi vedremo la risposta dal server, anche se la risposta è magari 500 internal server error oppure 404 page not found. Come usiamo la Fetch? La Fetch si può usare in questo modo e come vi dicevo molto semplice, bisogna semplicemente gestire la promise. Quindi scriviamo Fetch, l'indirizzo HTTP a cui fare la richiesta, quindi con questa riga diciamo voglio fare una get a HTTP example.com slash task.json questa Fetch, questa richiesta, ritornerà una promise e quindi la promise ma consumata nel then. Quindi questo oggetto response a un certo punto avrà il risultato di questa richiesta e quindi possiamo per esempio ritornare, questa funzione può ritornare il corpo JSON di questa risposta. Quindi questo response.json è un metodo, questo JSON è un metodo dell'oggetto di tipo response che viene restituita nel caso in cui la risposta non ha errore di rete, quindi la promise viene riempita correttamente e questo metodo JSON serve per prendere il body, per prendere e interpretare il body della risposta, il corpo della risposta HTTP come un corpo JSON. Quindi se noi sappiamo che questa URL ritornerà un oggetto di tipo JSON, possiamo utilizzare questo response.json per recuperare il body e convertirlo automaticamente da JSON a JavaScript. Siccome la Fetch gestisce delle promise promise, noi potremmo per esempio concatenare una seconda promise in cui stampiamo, da questo return, stampiamo i dati. Quindi qui, in questo data, stampiamo l'effettivo corpo JSON di questa risposta. Ripeto, in questa risposta a un certo punto ci sarà la promise completata con successo in cui ci sarà la risposta HTTP composta dagli header, composta dal body e quant'altro. Questo response.json estrae il body e lo considera in formato JSON e costruisce quindi, e ritorna quindi questo body JSON. E questo nova promise semplicemente ci stampa questo JSON, questo file testuale in console. L'equivalente di questo, giusto per darvi un altro esempio, è ovviamente utilizzare async e await che abbiamo già visto, possono essere, le promise si possono utilizzare sia con questa coppia async e await sia con il punto den, il punto catch e quant'altro. Queste porzioni di codice, come già dovreste sapere, sono equivalenti. C'è solo uno in modo, diciamo, classico di scrivere le promise e l'altro in modo un pochino più moderno di scrivere le promise. Ma il risultato dell'operazione è la stessa, identica. E ovviamente questo, questo fetch e questa response, questa response è sempre, dato che c'è la parola chiave await, è sempre una promise che verrà riempita solo in maniera asincrona solo quando questa fetch sarà ritornata con successo. L'oggetto della risposta, come vi dicevo, ha alcune proprietà particolari, come per esempio il corpo o gli header e le proprietà principali sono queste cinque riportate in slide. La risposta ha un campo, ha una proprietà ok, che è booleana, quindi è vero o falso, che rappresenta il codice HTTP di successo specifico di questo file, quindi un qualcosa tra il 200 e il 299. Ha poi un response.status e un response.status.text che è il testo o l'oggetto status o il testo dello status specifico, sempre HTTP. C'è un tipo della risposta che può essere basic, quello che capita normalmente, quindi una risposta che arriva dallo stesso server che serve il nostro script JavaScript lato client, oppure course, dove course è quello di prima, quindi questo cross origin, questa richiesta tra server diversi, di origini, di domini diversi. La URL, che è la URL finale di questa risposta, eventualmente dopo vari redirect HTTP che il server potrebbe aver fatto o richiedere, e poi appunto il body, che è uno stream di tipo readable del contenuto. Questo body è quello che abbiamo prima preso con quel metodo .json. Ecco qui c'è una definizione un pochino più precisa di questo course, di questo cross origin resource sharing. appunto questo corso è un meccanismo standard per implementare richieste cross dominio, quindi da un server ospitato su HTTP mozilla.org a un client, se volete, servito dal server mozilla.org a un server google.com. Quindi il client è servito da un server che ha un dominio diverso dal server, da un secondo server, che è per esempio quello di Google. ma anche un client servito da localhost porta 3000 ha un dominio diverso dal server che è pubblicato sull'indirizzo localhost port 5000, perché il dominio rientra anche la porta in questa definizione di cross dominio. E quello che fa questo corso è definire una serie di header HTTP che permettono al browser e al server di comunicare su quale richieste cross dominio siano permesse o meno. Di default nessuna richiesta è permessa, quindi questo corso è disabilitato, ma i server, ed è una cosa che devono fare i server, i server come il nostro Express, per esempio, può abilitare la comunicazione corso e definire quali origini, quali altri domini al di fuori del proprio sono accettati per la richiesta e quali metodi HTTP su queste origini sono accettati. Quindi un server potrebbe dire io voglio accettare tutte le get dall'indirizzo, dal dominio mozilla.org. Quindi se arriva una delete da mozilla.org questa sarà rifiutata. Se arriva una get da localhost questa sarà rifiutata perché il server non ha abilitato quell'origine. Come accediamo agli header della risposta? Se ci servissero, per esempio, accedere al content type, alla data e anche a questi status che sono scorciatoie ma possono essere ovviamente far parte dell'header, all'interno della den nella risposta abbiamo headers.get e il get sono ogni singolo header. Quindi l'header è content type col get recuperiamo la proprietà che ha come chiave, diciamo, content type e get.date recuperiamo la proprietà dell'header HTTP che ha come attributo, come chiave, diciamo, date. Vedete qui cosa fanno gli altri il response.status, per esempio, potrebbe restituire 404 lo status text restituisce il testo collegato a quello status, quindi not found il tipo è undefined, in questo caso e la url è localhost slash data.json che è esattamente la url in cui abbiamo fatto la richiesta, in questo caso. il fetch restituisce una promise e questa promise è rifiutata solo in caso di errori HTTP quindi ogni status HTTP anche problematico, come un 500 interna server error ritorna comunque una promise riempita ritorna una promise fulfilled quindi come possiamo gestire eventuali errori eventuali warning tipo il 404 tipo il 500 nel nostro client possiamo, prima di tutto, controllare il response.ok se il response.ok è vero vuol dire che non abbiamo errori se il response.ok è falso potremmo aver ricevuto un 400 4, potremmo aver ricevuto un 500 potremmo aver ricevuto qualcos'altro che non è corretto e quindi vorremmo magari poter decidere restituire al nostro utente un qualcosa di significativo potremmo anche o in aggiunta controllare il content type del header magari noi ci aspettiamo una risorsa di tipo JSON e quindi la interpretiamo come tipo JSON ma il server ci risponde con un qualcosa che non è JSON e allora da questo content type lo possiamo scoprire e infine potremmo gestire un catch per altri tipi di errori all'interno della nostra promise partendo sempre dall'oggetto response questo è un esempio vedete se il response è diverso da ok lancio un errore quale errore? l'errore che corrisponde allo status text quindi per esempio un 404 questo errore viene poi fatto il catch all'interno di questo metodo catch della promise allo stesso modo questo new type error perché in questo caso non restituiamo un JSON ma ci aspettiamo un JSON ma il server ci risponde qualcosa che non lo è lancia un altro errore con un messaggio quindi in questi due casi se la risposta non è ok e se il tipo è diverso dall'application JSON questa promise non verrà a questo punto fulfilled quindi non passerà qui ma questa promise verrà rifiutata quindi la promise che ritorna dall'oggetto response da questo primo den del patch e quindi arriverà al catch che gestirà l'errore in questo caso lo stamperà semplicemente a schermo oltre al primo parametro che è la url la promise ha e ovviamente al fatto che ritorna una promise la patch può avere altri parametri in particolare questo oggetto che si chiama init questo oggetto init è un oggetto javascript che ha varie proprietà queste proprietà sono quelle principali sono elencate in slide in particolare si può indicare che questa fetch a questa risorsa può essere fatta con un certo metodo HTTP per esempio voglio fare una post e non una get la get è il default oppure voglio passare e o voglio passare degli header specifici quindi voglio fare una post a questa risorsa con alcuni header specifici in questo oggetto init posso anche passare un body di nuovo voglio fare una post per creare una risorsa e quindi passerò il body della risorsa da creare ho una proprietà mod che specifica nuovamente se la richiesta deve essere course no course oppure same origin che è il default eventuali credenziali se o meglio la possibilità di omettere eventuali credenziali quindi volerle ignorare certe credenziali se richiesta lo serve passare a delle credenziali tipo same origin oppure includere alcune specifiche credenziali per mandare dei cookie con la richiesta per mandare informazioni aggiuntive con la nostra richiesta magari questa richiesta funziona solo se siamo loggati o se passiamo solo una certa chiave allora questa chiave bisogna passarla attraverso questa proprietà credenziali e infine potremmo anche passare una proprietà signal che è un segnale è un oggetto che è un'istanza di oggetto nel caso in cui volessimo per esempio interrompere la richiesta prima che la risposta arrivi prima per esempio che la risposta arrivi questo è un esempio del metodo opposto vedete che abbiamo sempre una feccia abbiamo sempre una url come primo parametro come prima ma aggiungiamo in questo oggetto alcune proprietà per esempio che il metodo da utilizzare per questa feccia questa url deve essere post che l'header deve avere un content type specifico che è quello dei form e che il body di questa richiesta che questa richiesta ha un body di questo content type ed è strutturata in questo modo questa feccia quindi sarà una post con questo specifico header con questo specifico body a questo indirizzo e poi tutto il resto funziona come prima ci sarà una den che prenderà il risultato una volta che la promise è fulfilled e farà quello che deve fare ed eventualmente ci sarà un catch che gestisce gli errori diretti nel caso in cui la promise viene rifiutata questo è un esempio analogo a quello di prima in cui morò quindi sempre una post in cui però viene mostrato come mandiamo del contenuto json che è quello che poi principalmente interesserà a noi per questa settimana quindi come per esempio fare una post in cui il body è un json allora vedete che per fare per mandare un json dobbiamo fare due operazioni specifiche la prima è impostare tra gli header un content type ad application json application json è il content type standard per tutti i tipi di oggetto json quindi dobbiamo comunicare al server che la post che riceverà avrà come content avrà un body e il body sarà di tipo application json dopodiché il body deve essere effettivamente un json quindi in javascript come passiamo ad un oggetto javascript normale qualunque come per esempio questo che è un tranquillissimo oggetto javascript ha un json che corrisponde a questo oggetto javascript quindi che abbia una parentesi graffa la doppia virgolette il titolo la chiusura della doppia virgolette e così via lo facciamo attraverso un metodo che è disponibile nel core di javascript che è appunto json maiuscolo punto stringify json punto stringify prende un oggetto javascript e restituisce una stringa del testo in formato json quindi fa la conversione tra un oggetto javascript e del testo il formato testuale secondo la specifica di json questo è un altro esempio in cui invece di mandare un json o mandare del testo mandiamo dei file carichiamo un file nella nostra al nostro server inviamo un file vedete che la differenza per il fetch è veramente minima in cui abbiamo un fetch ha un certa url che può essere come prima un url diciamo assoluta o anche può essere un url relativa se questa pagina se questo script è fornito dallo stesso server come nel caso diciamo di default e di nuovo questo fetch ha un metodo che post non ha un content type vedete non ha un body specifico ma un body che è direttamente un oggetto che cos'è questo oggetto questo oggetto è un new form data quindi un un oggetto composto per memorizzare file non testuali in questo caso un file binario che è il file che abbiamo caricato tramite l'interfaccia del browser in questo caso nel caso di questo esempio un'immagine dal titolo almeno e questo è per fare richieste quando riceviamo la risposta abbiamo visto che per esempio possiamo utilizzare questo response.json per prendere la risposta in json e serializzarla come oggetto javascript corrispondente quindi prendo il body della risposta lo leggo come se fosse un oggetto json e restituisco un javascript che corrisponde all'oggetto json response ha come vedete qui cinque metodi la cui oltre body la cui caratteristica è che potete utilizzarne solo uno alla volta una volta che il body è consumato in un formato per esempio in json non può essere riconsumato in un altro formato se non rifacendo un'altra richiesta quali sono questi metodi se noi sappiamo che la nostra risposta o se noi controlliamo dal content type che la nostra risposta è di tipo testo quindi testo normale possiamo utilizzare response.txt per prendere il body e convertirlo in una stringa come prima se noi sappiamo che la nostra risposta è di tipo json possiamo usare il metodo .json che prende il contenuto testuale nella risposta e lo converte lo salva in una variabile in un oggetto javascript corrispondente form data l'oggetto della slide prima quindi per contenere informazioni in tipo binario o comunque informazioni composite come quelle che potrebbero esserci all'interno di un form ma non in formato json non è neanche in formato testuale normale blob un tipo per ricevere dati binari un singolo dato binario un file un'immagine che ovviamente potremmo anche utilizzare form data ma questo abbiamo direttamente un tipo binario questo invece cerca di capire se ci fosse del testo ci darebbe un oggetto più complicato più complesso oppure un array buffer che è una rappresentazione di basso livello dei dati binari ovviamente i due più utilizzati sono text e json con json che è quello forse in assoluto più utilizzato e che anche noi utilizzeremo più spesso infine c'è anche il response.body che è semplicemente un oggetto da leggere pezzo per pezzo chunk by chunk perché è uno stream che ci restituisce il body di questa risposta qualunque essa sia poi starà a noi una volta memorizzato questo body in un oggetto andare a capire se è un testo se è un json se è un blob se è un formdata se è qualcos'altro e fare la conversione a mano ma questi metodi questi cinque metodi sono quelli principali appunto che ci danno già per il 99% dei casi quello che ci serve senza dover andare a prendere a mano e gestire a mano il body della risorsa della risposta possiamo anche fare ovviamente delle fetch in maniera sequenziale o in maniera parallela finora abbiamo visto sempre una fetch alla volta una sola fetch anzi non alla volta ma noi possiamo anche fare una fetch e poi in base al risultato della prima fetch fare un'altra fetch quindi un'altra chiamata HTTP in base al risultato della seconda fetch fare una terza chiamata HTTP e così via come facciamo? questo è un esempio possiamo farlo con fetch.den all'interno della den fare un fetch di quest'altra cosa e poi all'interno della sua den fare anche andare avanti così quindi generare una call in un certo senso un den con dentro un altro den con dentro un altro den con dentro una fetch con il suo den all'interno del secondo den un'altra fetch e così via oppure se vogliamo scriverla in maniera non concatenata non innestata possiamo utilizzare a sync e a wait di nuovo in cui vedete facciamo una fetch di user.json per prendere la lista di utenti quando questa fetch sarà risolta attraverso la promise questo oggetto response sarà riempito correttamente da questo oggetto response riprendiamo il json quando questa risorsa quando questa richiesta sarà completata con successo in users avremo ricordate che questo è il ritorno una promise a sua volta come prima avremo in questo oggetto users il json parsificato in un oggetto javascript a questo punto possiamo prendere il primo elemento di questa collezione visto che users ne avrà più di uno di questo array questa volta senza wait perché questa operazione non restituisce una promise questo è un accesso normale ad un array a quel punto con questa informazione il nome l'id dell'utente numero 0 possiamo fare un'altra fetch a un altro indirizzo che prenderà le informazioni di questo specifico utente quando la sua promise sarà restituita fulfill questo oggetto user response sarà riempito possiamo convertire il corpo di questo di questo oggetto da json in qualcos'altro salvarlo in questa variabile user data e quando ovviamente la promise sarà fulfilled da questo metodo punto json e a quel punto possiamo restituire user data che è un oggetto che contiene il json parsificato che è corrispondente al json della nostra ultima richiesta però vedete abbiamo messo in sequenza due fetch con le loro promise con i loro risultati che sono stati restituiti come promise possiamo anche fare del fetch parallele utilizzando il metodo che abbiamo visto quando abbiamo parlato delle promise promise.all vedete qui abbiamo due url vogliamo fare due fetch in parallelo quindi magari due get a due url possiamo costruire un oggetto di questo tipo e passarlo a questo promise.all questo promise.all a quel punto gestirà entrambe le risposte finché entrambe le fetch saranno soddisfatte e vedete che lo possiamo fare in questa maniera abbreviata utilizzando map e ciclando su url in modo da fare due fetch la prima sulla prima url e la seconda sulla seconda questo è un esempio un'alternativa del primo del primo e dell'esempio precedente in cui processiamo però il contenuto appena tutte le fetch ricevono una potenziale risposta quindi a differenza del primo non aspettiamo vedete di avere la seconda promise sulle fetch quindi il risultato di questo il risultato in testo in stringa della risposta ma lo processiamo non appena la fetch ritorna quindi magari ritorna 404 e quindi gestiamo qui questo caso invece di doverlo gestire all'interno dell'array di promise metodi alla fine equivalenti di fare promise in parallelo la differenza appunto è che qui gestiamo la promise viene consumata immediatamente appena questa fetch ritorna nel caso precedente la promise veniva consumata dopo che la promise del risultato della risposta del fetch veniva resa disponibile full field possiamo come vi dicevo attraverso sempre quell'oggetto init di fetch definire un'istanza di signal di questo signal che ci permette di interrompere se vogliamo una richiesta http mentre in corso o mentre la risposta non è ancora arrivata quindi si utilizza questo si può utilizzare questo questo metodo abort questo costruttore questo abort controller è a quel punto quando per esempio clicchiamo su un bottone sul bottone cancel chiamiamo controller.abort questo controller.abort ha anche viene utilizzato come controller.signal come dentro l'oggetto init della fetch e quindi premendo eseguendo questo abort viene mandato un segnale che viene intercettato da questa patch che interrompe la richiesta http in questo caso nel caso di questo esempio potrebbe essere un download quindi una richiesta http il cui risultato la cui risposta è ovviamente lunga non è immediata e quindi si può interrompere in qualche modo questo è ragionabilmente ben supportato nei browser di nuovo contemporanei questo passaggio di signal questa intercettazione di signal questo essenzialmente chiude la fetch come api http e nel prossimo video vedremo un esercizio in cui faremo delle fetch al nostro server di esempio rest e poi avremo un laboratorio su questa fetch questo venerdì la fetch è un api diciamo standard per html5 esistono anche api librerie alternative un pochino magari più evolute o con più opzioni di rispetto alla fetch come per esempio questo axios questo axios ha alcune caratteristiche particolari rispetto alla fetch per esempio funziona anche su browser più vecchi dove non dove la fetch non era supportata quindi automaticamente converte le richieste asincrone http nella modalità supportata dal browser c'è un modo più facile per cancellare una richiesta senza dover creare un oggetto abort e poi chiamare il metodo abort su quell'oggetto e passare il segnale dell'istanza nella fetch e così via si può anche mettere un tema auto sulla risposta per cui se la risposta non arriva dopo un po' si può abortire tutto in automatico supporta le progress bar fa una conversione automatica a json senza dover dire response.json aspettare la seconda promise eccetera 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 tra cui axios funziona anche molto bene in node sia lato lato server ovviamente mentre la fetch non è inclusa nel node lato server ma è se non ha un API html5 è utilizzabile appunto nel client e non tanto nel server però noi bisogna includerla esiste la versione della fetch per node.js per esempio da utilizzare in express ma di default non è disponibile mentre di default è disponibile nei browser questo perché noi potremmo ovviamente volere che un server faccia una richiesta HTTP verso un altro server per recuperare le informazioni per esempio abbiamo un server che espone dei dati un server che deve gestire la logica una volta ricevuto questi dati e riesporre i dati magari digeriti in qualche modo allora noi potremmo avere il primo server che fa attraverso fetch o attraverso Axios una richiesta al server che contiene solo i dati li digerisce e poi li offre a un client questo è infine un piccolo esempio di come funziona Axios vedete che alla fine ci si ritrova abbastanza anche Axios ha bisogno delle prom utilizza le promise anche Axios non ha un parametro non ha il primo parametro che l'url ma passa subito un oggetto in cui in questo oggetto c'è il metodo l'url un eventuale timeout e il corpo che potete indicare direttamente come oggetto come oggetto javascript e viene direttamente convertito nel formato corretto per questa post se non specificato diversamente e poi si gestisce la risposta in una promise ed eventualmente si gestisce l'errore di nuovo HTTP nel senso di problemi col server oppure timeout quant'altro non 404 o quant'altro che vanno gestiti nella risposta in maniera molto simile a quello che succedeva con la fetch normale